Vai Mavta, stiamo riprendendo Mavta Stiamo andando o non c'è la festa oggi, venite come nella villa che gli voglio mandare Cavla! Cavla! Cosa stai facendo? Cavla! Mavta! Io ti amo Mavta! Ma sei adorabile finalmente, non sono l'unica cosa! Te l'ho detto che avrebbe gradito Mavta, sei adorabile, meravigliosa, meravigliosa! Ciao Guarda, qualcuno è poveri, qualcuno, guarda! Ma i poveri! Ma guarda, sono anche Ponsivi, guarda, sono anche Ponsivi! C'è anche una tua cara, eh? Scusa, vieni qua, come ti chiami? Scusa Roberta, è giusto che oggi si dica che ho voluto fare una festa per i poveri! Una festa per la servitù, io allora non avevo voglia! Hai deciso di passare il Ferragosto con la servitù, anziché con i tuoi amici! Cioè, era meglio da ammirare, da ammirare! Questo è un paio che tu lo spero, perché così la gente capisce che comunque io ho questa attitudine! Andiamo a vedere quelli che arrostiscono! Ma certo, vedi? Questi sono i servi che vengono in un arabo! Un cioccaglietto! Scusa, Carlo, guarda! Occhio, occhio! C'è già lo metto con la servitù! Vedi, questa è tutta a servitù! Pazzo! 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 Ecco qua! Poi ci sono questi due arabi che ho preso da poco, li ho presi! Lui in affitto! Invece quello l'ho già preso! Ecco, un dato d'uso gratuito! Cucinare polire! È poco polare! Bravo, bravo! Quel terzo viene dalla Danimaca, ma non so se da quelle madre si è uscita, insomma! È un po' così strano! Quello lì invece è proprio sardo! Lui che sardo che c'è lo vedi lì? Muscoli, muscoli, fermezza! Questi due, allora questo qui svedese, l'ho preso, dicono che lavorano, però non ho visto che ha fatto un cazzo! Questo è rumeno! Scusa! Come ti chiamano? Ramon, anche tu ti chiami Ramon? Marta, sei morto! Lei è l'unica amica, Carla! Lei ha deciso di passare il Paragosso coi poveri! Guarda, ma di cazzo della musica! Guarda, ma che musica classica! Di pane Carazzo! 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 Di pane Carazzo! Di Villassini! No, Villassini! Villassini! E cosa? Vogliamo farvi vedere! Scusa Roberta, vieni! Qui abbiamo le macchine! Tutte noi le abbiamo prese, queste macchine sono tutte mie! Ah, per permettergli comunque di spostarsi, giusto? Nel caso mi serva qualcosa, loro si muovono! Vedi? Infatti vediamo quante ce ne sono! Vedi? Tutte le macchine comunque, tutte brutte! Ma... Alla fine ne avevo tantissime figurati di assicurazione! Che devo... Jejja! Devo pagare! Ciao, Jejja! Jejja! Guarda qua! Guarda che se vi interagiscono! Eh, signora... Quella vengo, dimmi! Questo qua è un altro ragazzo che ho preso una romania! Dimmi! Vladimir! Tovaglia o... La tovaglia? No, guarda! Ma mettiamo tovaglie perché me le sporcate sempre! Con la vostra zuzzeria! No! Niente tovaglie! È già troppo la festa! Ok? Niente tovaglie! No! Ce l'è! No! No! Ho capito? Dov'altro? Non, sempre! Eh... Habdul! Se me signora! Lui... Lui è giù la! Lui balla! Lui è il famoso ballerino! Ma... Il gioco del veltaglio! Il gioco del veltaglio! Coppilloni! Coppilloni! Di questo! Che cosa? Bellissimo... Che buona Che buona Ok ragazzi vi saluto Alla prossima Un saluto agli amici di Di quel giudatore sei tu Mi studio perso Grazie Viva il pascio No lo ti ho ripreso Potevo essere un finale E' bellissimo Sto ancora riprendendo